Un'esperienza didattica sviluppata lontano dalle mura scolastiche per favorire lo sviluppo di nuove competenze e migliorare l'autostima dei ragazzi. Prosegue con successo il progetto Inclusione dalla teoria alla pratica, promosso oramai da diversi anni dalla scuola Archimede di Barletta. Il laboratorio del caffè, trasportato all'interno del Superstore Coop di Via di Bari, mette alla prova gli studenti speciali dell'istituto, che hanno così la possibilità di entrare in contatto con persone diverse dai loro insegnanti in un contesto meno protetto rispetto a quello scolastico. La preparazione di un buon caffè diventa così l'occasione per vincere la timidezza e sviluppare fiducia nelle proprie abilità manuali. Un'iniziativa molto importante sotto il profilo formativo, educativo e motivazionale, spiegano gli insegnanti, che si inserisce a pieno titolo tra le numerose attività di laboratorio portate avanti all'interno della scuola in favore degli studenti con bisogni educativi speciali. Tutto nasce da un progetto, un progetto così chiamato progetto BAR, iniziato presso la nostra sede IPSI Archimede. Nasce perché vogliamo fare in modo che vengano sviluppate le autonomie, le competenze personali e sociali dei nostri ragazzi speciali. Nasce perché vogliamo che questi ragazzi possano occupare un posto nella società e avere una collocazione lavorativa. Per cui noi ogni giorno abbiamo un progetto BAR presso la nostra sede, dell'Istituto IPSI Archimede, dove si svolge proprio un'attività laboratoriale dove vengono sviluppate le competenze personali dei nostri ragazzi speciali. In virtù del loro futuro e della loro vita futura. Riscontri positivi dunque per un'iniziativa già andata in scena con successo lo scorso novembre nella Galleria del Centro Commerciale Mongolfiera di Barletta. Intenzione dei docenti dell'Archimede è di proseguire con altre tappe il loro caffè in tour. I ragazzi speciali si divertono e conquistano facilmente le simpatie dei clienti. Lui è Antonio, 28 anni, ma per tutti è semplicemente il direttore. Dirige il laboratorio del caffè con consumata esperienza e sogna di poter un giorno lavorare all'interno di un vero bar. I ragazzi sono molto entusiasti, sono contentissimi, ci aiutano tanto e proprio perché lavoriamo in team riusciamo ad ottenere dei risultati positivi.